E lo stile di vita anche dei giornalisti, questa è una cosa che potremmo mostrare nel nostro pitch, era proprio diverso nel senso che il giornalista dell'online dovendo coprire 24 ore o quasi, aveva dei turni per cui oggi attacco alle 5 del mattino, quello del cartaceo arriva per la riunione che si fa tra le 10 e le 11, poi magari va via molto tardi perché il giornale si chiude tra le 10 e le 11, ma nel giorno in cui ha lavorato tanto ha scritto un articolo, quello dell'online si è scritto 5, ha cercato la foto, ha tagliato la foto, Se tu dicevi a uno del cartaceo di mettere il suo pezzo anche sul sito, in certi casi di cercare la foto, diceva no, ma avvertenza sindacale, subito assemblea sindacale, consegniamo un pacchetto di 5 giorni di sciopero contro l'editore Originale Netflix Benvenuti approssimamente il podcast di Netflix Italia condotto da me che sono Chiara Galeazzi e da lui con la sua bellissima giacca squamata L'avete mai visto una giacca così? Che è Filippo Ferrari Ciao a tutti Oggi abbiamo un ospite finalmente serio, vogliamo dire Possiamo dire, il primo ospite che fa un lavoro vero Che fa un lavoro vero, che è iscritto a un albo Una persona insomma seria e con cui parleremo di cose serissime, male però, perché comunque siamo quello che siamo, Francesco Costa Ciao, grazie di questa introduzione, era evidentemente finito il budget, cioè Leonardo Ferrario, Alessandro Cattelan, Francesco Costa, va bene Abbiamo avuto dei problemi ma comunque lo discuteremo in un altro momento Allora, la parte che averti qui per noi è già un mega successo perché sei l'uomo più impegnato del mondo Sì, fai tutto Per voi, per stare con voi mi sarei liberato da qualsiasi cosa, infatti non sono a lavorare in questo momento per essere qui, quindi anzi grazie Salutiamo Luca Sofri, è qua Francesco Grazie per avercelo lasciato Te lo ridiamo subito, te lo ridiamo subito Come va? Bene Tu sei sveglio da tantissime ore in questo, sono le 10 e mezza, quasi le 11 più o meno Io sono sveglio da 45 quindi ho anche una fame pazzesca, c'è l'ora di pranzo per me Dopo abbiamo dei buonissimi panini C'è il rinfresco C'è il rinfreschino, se noi le robe le facciamo come vanno fatte Comunque la cosa particolare di averti qui è che appunto tu inizi da, tu vivi indifferita Perché praticamente tu ti occupi, cioè sei la persona più esperta dopo Kamala Harris, credo, di Stati Uniti E quindi averti qui dopo che anche ogni mattina pubblichi un podcast, quindi è un podcast che parla di notizie Quindi registri al mattino, io voglio sapere un po' com'è la vita di Francesco Costa A che ora va a dormire? La tua routine Se va a dormire, insomma come funziona? No, vado a dormire, vado a dormire presto Presto cosa vuol dire? Vuol dire, allora, vado a dormire nel senso che entro nel letto per dormire intorno alle 11 Ma di solito il sonno comincia Chiamalo presto, ragazzi, io alle 11 ho la bolla al naso da due ore Perché il sonno di solito comincia involontariamente sul divano Per cui io so che la mia autonomia adesso è un episodio di una serie Il secondo episodio di solito mi uccide a un certo punto, a prescindere dalla serie in questione Domanda subito su questo Sei di quelli che dice, vabbè, come se l'avessi vista oppure la riprendi dall'inizio? La puntata su cui hai dormito No, io la riprenderei anche dall'inizio, ma la mia fidanzata ovviamente mi odia Perché lei vede tutto Certo, lei non interrompe quando mi addormento Diciamolo E quindi io il giorno dopo, di solito, nei ritagli di tempo, tipo, non so, pausa pranzo, pausa caffè Sul cellulare magari mi porto in pari se proprio ci tengo Se no, ah, ma non me lo faccio raccontare È che tanto va bene gli stessi Sì Bello E poi mi sveglio presto, alle 4.45 Ma tant'è che ho un amico che ha un locale E quindi lui invece va a letto molto tardi la sera E si sveglia molto tardi la mattina E gli unici momenti in cui noi siamo sullo stesso fuso orario Sono quando io sono negli Stati Uniti E lui è in Italia Perché di solito, se siamo entrambi in Italia Siamo proprio su due fusi orari completamente diversi Per te inizia un giorno, per lui finisce Esattamente Eh, anche perché appunto il claim del tuo podcast Morning è tutte le mattine prima delle otto Quindi raga, prima delle otto vuol dire che è vera Cioè ti devi svegliare veramente a lei È una grande promessa È una grande promessa Prima delle otto esce Quindi via devo aver letto i giornali Poi ho parlato Poi prima ho montato e tutto quanto Poi tutti i giornali ne leggi veramente tanti Perché prendi da qualsiasi quotidiano Ne leggo una decina Ma questa cosa sta cominciando ad avere anche un effetto, secondo me, sulla mia salute mentale Secondo me non è proprio la cosa migliore Cominciare ogni giornata leggendo tutti i giornali di carta Certo Qualsiasi siano le notizie Poi condividono i giornali Questo non è un gran promessa A volte alle otto sono già arrabbiato per i fatti miei Mentre i colleghi arrivano in redazione Però hai capito, vai ad aggiungerci lo stretching muscolare Come fai a ti svegliare alle tre? No, infatti Devo entrare nel giusto mood No, impossibile infatti Già incazzato nero alle cinque Esatto Ma tu hai smesso di avere tipo una vita sociale dopo cena O già comunque non ti interessava granché uscire? No, 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 cerco di uscire La cosa che non riesco a fare più la sera è fare del tipo lavorare Cioè il mio cervello non può più fare determinate attività Che coinvolgono un certo impegno cerebrale Però il resto andare a cena fuori E poi magari lo pago un po' il giorno dopo Però lo faccio Cerco di farlo Con tutti i limiti, diciamo, della nostra età Che non ci vede proprio A meno a me, non so voi Non voglio fare delle insinuazioni Ci diamo un paio d'anni di differenza Non ho più quello spirito No, a me non ce l'ho mai avuto Figurati adesso Però non ho rinunciato alle giacche da giovane No, esatto È un consiglio che do a chi ci sta guardando Comunque Francesco, vuoi mettere delle giacche da giovane? Se vuoi comunque sentirti Sì, sì Se non è proprio quello che poi i ragazzini lo vedono Dicono, ma dove cazzo va questo? Con sta giacca Oppure pensano, uno vestito così Chissà cosa fa la sera Chissà che feste incredibili E invece no No, di solito bevo una filtrofiore Bonomelli E basta Sponsor del podcast Sponsor del podcast Uno dei tanti appunto Uno dei tanti Tutta filtrofiore Ah, bello Ottimo Buono sapersi Grazie mille per questa informazione Prego Nel frattempo Mentre fai il podcast Mentre fai il vice direttore del post Ci piazzi pure dei libri Ci piazzi dei libri Ci piazzi dei viaggi Ci piazzi dei viaggi negli Stati Uniti Perché se no non posso spacciarmi per esperto Per esperto Per esperto Come? Per quanto che gli Stati Uniti Siano un po' usciti Dalle attenzioni delle persone Non so se anche voi Vi siete accorti di questo fenomeno Che da quando Il presidente è cambiato E non c'è più un presidente Che al di là Diciamo del gradimento di ciascuno Che twitta Ogni mattina Non sai che cosa succederà E che cosa dirà Che cosa che prima Tirava un sacco di persone A capire Ma che sta succedendo in America Ecco Adesso mi sembra Che ci sia un po' meno interesse Dovrei trovare un altro paese Un'altra area del mondo Di interesse In cui specializzarmi Per tenere in piedi La mia carriera Non so se avete dei consigli Io direi Un bel generico Esperto di geopolitica Che oggi tira molto Che la parola Che oggi tira di più Quindi puoi ampliare E direi Io sono esperto Di tutti i paesi esteri E tutti Anche i modi In cui i paesi Si relazionano Tra loro Certo Fenomenale quasi E dove succede qualcosa Tu ci sei Io la so Qualsiasi cosa sia La so Secondo me sì ci sta È un po' la base del giornalismo Tra l'altro Tra l'altro sì Quindi allora Noi ti abbiamo invitato qui Un po' Anche perché Morning funziona tantissimo Anche da costa a costa Tuo podcast precedente Un successone Io ascolto entrambi Scusate E ci tengo a dirlo Quindi un po' Ci porti bene A questo podcast Un po' Ti vediamo anche In sofferenza Per tutte queste cose Che fai Perché sono tanti lavori Tutti insieme E io e Filippo Abbiamo deciso Di occupare Questo podcast Dove in realtà Dovremmo parlare Delle serie In uscita di Netflix E non lo facciamo Siamo dei creativi Quindi cerchiamo di Noi vogliamo coinvolgerti Nel progetto Di creazione Di una serie tv Dici tanto Cosa da fare Non ne hai No Così lo avendiamo E poi andiamo a fare Queste meritate vacanze Facciamo i soldi E i podcast E i fai fare I tuoi sottoposti Tu diventi esperto Di maldive Da un'idea Di Francesco Costa Certo E con quei credits Guadagnerò dei soldi A vita Sulla base di questo successo Certo perché poi Noi adesso facciamo La versione italiana Poi la vendiamo anche all'estero Andiamo agli emi Abbiamo dei grandi piani E appunto come diceva Chiara Diventerai esperto Di paradisi Di paradisi fiscali Soprattutto fiscali Soprattutto fiscali Che spesso Quando uno è paradiso fiscale Sono anche posti dalla Madonna Certo Quindi facciamo questa cosa qui E poi ci godiamo le rendite Alle isle Caiman Noi ci siamo resi conto Che c'è un vuoto Nelle serie tv italiane Manca una serie Sui carabinieri No Quella c'è Forza dell'ordine ci sono E speriamo in un revival Militari di vario tipo Ci sono Preti e suore Preti e suore Che vanno di brutto Incredibile Medici Medici di brutto Medici infermieri OS Anche Credo Manca una serie Sul giornalismo Ok Noi veniamo da Una pandemia Dove Non abbiamo fatto altro Che guardare News Tutto il tempo E questa cosa Sta continuando Anche per Le vicende Che occupano In questo momento L'Europa Però la gente Non sa che cosa Succede dentro Una redazione Non sa come funziona Il giornalismo Vogliamo davvero Mostrarglielo Secondo me C'è abbastanza Se rientra Nel genere horror È una comedy Io ho notato Che Entrambe le cose Esatto Ho notato che Molte persone Durante la pandemia Oltre alle news Hanno guardato The office Probabilmente Perché sentivano La mancanza Di andare in ufficio Non lo so Mancanza che io Non ho mai sentito Ma hai sentito Proprio zero Ognuno Però evidentemente La gente piace Guardare i posti di lavoro Certo E quindi forse Una sitcom Stile The office Dove però Il posto dell'ufficio Di vendite Di una azienda Che fa carta C'è una redazione Di un giornale Potrebbe anche funzionare Ci può stare È vero Ci vuole del Del conflitto però No Sennò la storia Deve muoversi Che redazione è? Un giornalismo di inchiesta Una start up La redazione del TG4 Con Emilio Fede Che vuole Io conflitto Penso subito Allora Io e Filippo Veniamo dalle redazioni Anche noi Ok Più entertainment Diciamo Esatto Perché abbiamo lavorato Per riviste Che si occupavano Di musica Cinema Varie ed eventuali Cose di vario genere Tu invece Fai parte di una redazione Quella del post Dove si tratta Principalmente Attualità Di news Sapete che C'è una divisione Molto netta Tra news E intrattenimento Guaia Chi mescola Guaia Chi pensa di chiamare Dalle cose Non so Talk show Però Che mescolano Infotainment I primi Perché se scrivi news Mica ti puoi divertire Anche facendo qualcosa No No Secondo me Il conflitto Più interessante Anche perché Noi ci siamo passati E mi sa anche tu Perché se abbiamo Più o meno La stessa età Abbiamo iniziato a lavorare Tutti nello stesso periodo È quello tra La vecchia guardia Della carta E il nuovo Dell'online Che si scontrano Si parlano Ma non si capiscono Ci faremo dei nuovi amici Quindi Esatto Tu dove Hai iniziato La tua carriera Io ho iniziato La mia carriera In un giornale di carta Non so se vogliamo dire Proprio il giornale Dipende da quello Che stai per dire Riguardo al lavoro Forse Un giornale di carta Un giornale di carta In cui ero ovviamente L'ultimo arrivato Avevo un blog Prima Per cui mi hanno subito messo Ed è stata anche una cosa Di cui ero molto contento Nella redazione web Quindi non Tra chi scriveva i pezzi Che andavano sul giornale di carta Ma chi scriveva i pezzi Che andavano sul sito Al grido di Tu te ne intendi Di internet Al grido di Ma anche di Tu te ne intendi Di computer Cioè una delle cose Che succedeva a volte Era che quando si bloccava Un computer Sai Word si è impallato Invece di chiamare Non so l'IT Ma non so nemmeno Se c'era l'IT In quel giornale Chiamavano quelli Della redazione online Perché voi siete evidentemente Esperti di computer Certo E tu dicevi Spegni e riaccendi Sono l'ultimo arrivato Quindi non potevo fare quello che dice Eh ma no Questo non puoi chiedermi di fare Quindi andavo lì Provavo a fare Control alt Canch Soffiavi dentro il cd Esaurivo lì Le mie competenze informatiche E erano anche un po' delusi Se non riuscivo effettivamente A rimetterlo Sti giovani Non c'è voglia di fare un cazzo Pensano di saperne così tanto Non hanno voglia di fare una minchia Quello è un grande classico Una bella frase Che dicono Non hanno voglia di fare niente Non sanno fare niente Sanno tutto il giorno sui social Un'altra cosa che succedeva Era non so Elezioni Di una qualsiasi In televisione A un certo punto Cominciano a passare i dati No Degli risultati O degli exit poll E sono dati che tu puoi anche trovare online Eppure c'era un colleague Non diciamo il genere Che col blocnoto Stava davanti alla tv E aspettava che passasse la scritta Del numerino Per appuntarselo E io volevo dirgli Guarda che se vai sul sito Ci sono tutti i numerini Però cosa fai L'ultimo arrivato Alzi il dito E dici no Quindi puoi soltanto guardare E dire un giorno Questa cosa la racconterò In un podcast Sì Perché già sapevi Che ci sarebbe stato Netflix E i podcast E che mi avreste invitato Beh in effetti Quel periodo lì È stato veramente Tragicomico Sotto alcuni aspetti Perché c'era Io mi ricordo Nella nostra piccola esperienza Però C'era proprio una divisione netta Tra chi si occupava Come dicevi tu Del web E chi si occupava della carta Come per dire E ora sono arrivati i pirla Che fanno il sito Che tra l'altro Poi quelli del sito Lavoravano dieci volte di più Sì Perché poi ovviamente Il sito non si ferma mai Un continuo aggiornamento Mentre alla carta C'era un po' questa roba Che tu ti prendevi il tuo tempo Per fare il tuo pezzo Te lo rileggevi cento volte Qualcuno lo passava E andavi in stampa E non ti occupavi di niente Mentre col web E la foto E il titolo Perché ovviamente Non c'è più la figura Del titolista Magari sì Però voglio dire Fai tutto tu Poi magari qualcuno Lo rilegge Ma il lavoro È quintuplicato Per il redattore Tra l'altro oggi Le cose sono un po' cambiate Nel senso che Anche chi lavora sulla carta Fa degli orari Molto più simili A quelli del web Fa un sacco di altre cose Ovviamente dipende Che carta Se un quotidiano Ma all'epoca Era proprio Una vera divisione militare E lo stile di vita Anche dei giornalisti Questa è una cosa Che potremmo mostrare Nel nostro pitch Era proprio diverso Nel senso che Il giornalista dell'online Dovendo coprire 24 ore o quasi Aveva dei turni Per cui oggi Attacco alle 5 del mattino Stacco Quello del cartaceo Arriva per la riunione Che si fa tra le 10 e le 11 Poi magari va via Molto tardi Perché il giornale Si chiude tra le 10 e le 11 Ma nel giorno In cui ha lavorato tanto Ha scritto un articolo Quello dell'online Se ne è scritti 5 Ha cercato la foto Ha tagliato la foto Hanno cavalcato male L'onda Molti giornali Che è la stessa cosa Che è successa poi In tutte le evoluzioni Tipo anche Pensa in discografia Quando sono passati Dal CD All'MP3 Che tutti dicevano Ma che è che Se io ascolto Quelle robe lì E poi C'è un po' quella roba lì È il sapere Cavalcare il cambiamento E noi Che eravamo Dalla parte meno Non so voi io Dalla parte di quelli Del web Che subivano anche Magari un po' di angherie Certo Pensavamo È solo questione di tempo Perché prima o poi Tutti questi soldi Che fate voi Con la carta Con la pubblicità Che vi fanno essere Non dico ricchi Ma insomma All'epoca si guadagnava Anche abbastanza bene Non potranno che diventare Soldi nostri Dobbiamo soltanto aspettare Anche qua E invece Non è successo Tutti poveri Non è successo Siamo tutti molto poveri E lavoriamo tutti Molto di più Per non parlare Poi vabbè Del capitolo Collaboratori esterni Che quella è un'altra roba Eh sì Non è facile Essere collaboratore esterno No per niente Non è facile Così come non è facile Essere amministrazione Di un giornale Credo Cioè persona Che si occupa Della gestione Delle fatture E deve capire Chiamo per quella fattura Del 2009 Chiamo per i 20 euro lordi Che mi dovevate dare Per il listing Eh sì E tutto questo Viene anche dal fatto Da una disperazione Non voglio giustificare Adesso la categoria Certo Da una disperazione Che è stata dal fatto Che comunque I ricavi vanno giù Non sai più come monetizzare Questi articoli Insomma mi sembra Che il motore Del conflitto Delle storie Delle vicende Dei nostri personaggi Sia un po' quello Trovare Dei nuovi modi Per essere rilevanti Per guadagnare Dei soldi E fare i conti Però con dei principi Che sono quelli Del giornalismo Che in realtà Ti dovrebbero portare A essere invece Austero Serissimo Integerrimo Nei titoli Per dirne una Sì in effetti C'è una lotta Tra giornalisti Vecchia e nuova guardia E poi c'è una lotta Fra giornalisti Immagino sia vecchia Che nuova guardia E il commerciale Eh sì Che è questo Per dire È la nostra coscienza No no Perché il commerciale In effetti È come se fosse Una proiezione Della coscienza Che ti dice Ok sì I principi L'ontologia E quant'altro Però io devo pur mangiare E il commerciale Te lo ricorda Ogni singolo giorno Questo tuo pezzo D'inchiesta Che hai voluto fare Su questa azienda Che non so Dicono che inquini Perché hanno perso Del petrolio Accidentalmente Sai che è un nostro sponsor È un grande inserzionista E quindi lì L'articolo Sull'inchiesta Forse Non si sa E poi lo sai Che è stato un incidente Tu non sbagli mai Sul tuo lavoro Ed è davvero petrolio Potrebbe essere caramello A giudicare dal colore Tu che ne sai Esatto Era un litri Di Just for Men Numero 64 Corvo Esatto Che poi quella è anche Forse un po' La differenza che c'è Tra le varie redazioni Tra chi si occupa Di news E chi invece fa Il mensile Di lifestyle Moda O entertainment Di qualsiasi tipo Che invece sta lì E fa I suoi bei viaggi stampa Che belli viaggi stampa Che belli viaggi stampa Che belli viaggi stampa Io non ne faccio più una volta Ne ho fatti un po' Devo dire Si fanno meno adesso Però sì Presentiamo il nuovo smartphone E quindi vieni una settimana In Florida Ma che non vuoi andare in Florida Che c'ho pure parenti No Io mi ricordo qualche anno fa Quando si parlava solo Di fate le galleri Fate il listing E corsi Anche insomma Corsi di Ovviamente Come si sa Sul web bisogna fare i click No? E poi ovviamente Bisogna unire i click A ovviamente delle cose Più seriose Però uno dei modi Più utilizzati Era quello di fare le galleri Che le galleri Tu fai galleri di 60 cose Sono 60 click In un articolo Mentre se fai un grande pezzo L'inchiesta E un click Un banner pubblicitario E erogato Pensa quanto una foto Di un VIP in spiaggia Quindi bisogna unire Le due cose Per continuare A avere una dignità E fare anche dei contenuti Che ti portino Un po' di volume Però ovviamente Diventa sempre più complesso Tant'è che nel gergo Diciamo dei giornali Sapete che nei giornali online C'è questa divisione Un po' in colonne C'è la colonna Diciamo delle cose più virali Il cane che abbia Il ritmo di musica Le galleri Eccetera Che bravo quel cagnetto La colonna infame Il boxino morboso Ci viene chiamato In tanti modi diversi E in teoria Nel migliore dei casi Tra l'altro Quella è la parte Che genera I ricavi Che pagano La parte di horrorismo Più serio Ma non sempre così Perché poi è facile Farsi prendere la mano E dire Ma questa inchiesta Sull'azienda Da petrolifera Ma vogliamo davvero farla Che c'è questo video Di questa ragazza Che ha commosso il web Che canta l'inno nazionale Pur essendo lei muta Non so Queste robe Perfette per internet Sì E dici Ma vuoi mettere Ma un po' di cuore Mettiamo La fai La gente ha già Tanti problemi Esatto Però adesso Invece delle gallerie Dei listing Tutti dicono Facciamo il podcast Oggi È tutta colpa tua Perché hai iniziato tu Voi state lavorando Un podcast qui Esatto Lo so Però noi non siamo Testata giornalistica Ho copiato Dagli americani Tra l'altro Tu era stato anche Un po' un caso Mi che l'avevi finanziato Anche col crowdfunding Finanziato dal basso Perché era tutto gratuito Però le persone Potevano donare E ho fatto questa cosa Molto innovativa Per cui chi donava Non aveva diritto A nulla Se non alla mia simpatia Esatto Le ricompense Lo sticker La foto Invece c'erano Tutti degli scaglioni E tutti davano diritto Non ricevere niente Se non la gioia Di aver contribuito Neanche il nome alla fine Sai come fanno niente Leggi l'elenco dei nomi Esatto Attento a strategia Di marketing inverso Ha funzionato Ha funzionato Comunque Esatto Che bello Di nuovo c'entra Secondo me anche il fatto Che c'era un presidente americano Che tirava un po' l'attenzione Sugli Stati Uniti all'epoca Però ha funzionato Ah È merito di Trump È merito di Trump Sì Non so se per il mondo Lui abbia fatto più bene o male Questo lo lasciamo A chi ci ascolta Per la mia carriera È stata una roba Ma dovrei offrirgli una scena Come minimo Se non fosse che Come Berlusconi per i comici Esatto Negli anni 2000 Esatto Ah guarda La svolta è stata Però questo tipo di diffidenza Nei confronti delle cose nuove È accaduto per un sacco di altre cose Cioè I social media Beh certo Ma al web in generale All'inizio C'erano giornali Che affrontavano Quella transizione Con tutte le fatiche Che poi al centro Della nostra serie Che avrà un grande successo Giornali che dicevano No a noi Secondo noi Questa cosa di internet Ignoriamo un problema Secondo noi Questa cosa di internet È una moda passeggera A un certo punto Finirà Avremo un'altra cosa Non ci vogliamo investire E poi mettevano redattori 50 anni Senza nulla togliere Perché tra dieci anni 50 ce li ho pure io A fare le dirette Instagram Tipo con Inquadratura della pappagorgia Sotto Esatto Sì 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 Vabbè In pandemia è stato il trionfo Di questa tragedia Delle dirette Instagram Raga Che tutti i giornali Anche i giornali Fatti magari Non proprio fresh Come taglio Ma quindi giornali Magari appunto Redazioni di over 50 A fare queste dirette Che comunque Ci andava del coraggio Sia a farle Che a guardarle Sì Poi magari invitavano L'ospite Che era l'unico Magari giovane Un po' cool Che si inquadrava Con quel cerchione Esatto Con la ring light E le pupille Che sembravano Quelle di alien Perché poi ti fa Quella roba rotonda Sì perché diventano Molto piccole Di fianco a redattori Con cavi Orrendi Microfoni Sembrava un collegamento Spazio-tempo Siamo in collegamento Col 2058 Come potete vedere Sopra di noi O al contrario Col 1972 Quello Mo' arriva Tik Tok Io ve lo dico E come fai a fare Tik Tok Non lo so Francesco Costa Come si fa a fare Tik Tok Come si fa a fare Tik Tok Giornalismo su Tik Tok Io non Tik Tok Immagino che tu debba dire tipo Ecco le sette ragioni Per cui No è iniziata la guerra Ballando Però non puoi ridere Essendo Quindi devi essere molto serio Tipo questa roba qua Con i balletti E poi vedi tu Qual è la canzone E poi appare Crisi climatica Tutte queste robe Ma scusa Perché Adesso per capire Tu vieni da una realtà Web stabile Insomma Il post Il giornalismo su Instagram Come lo vivi? Lo vivo In modo ambivalente Su Instagram o sui social Perché Penso che siccome le persone Me compreso Passano un sacco di tempo Su queste app E penso che sia finito Il momento in cui Devi sperare che la persona Vada a cercarsi le notizie Vada in edicola Devi andare tu Dalla persona Quella piattaforma Lei mi permette Di dargli delle informazioni Utili Che nella mia idea Di giornalista Dovrebbero essere Così Un modo per farti Venire l'appetito Un qualcosina Che poi ti faccia venire voglia Di approfondire Quella roba sul sito Su daily Libri Sai quei cose Con la carta Incredibile E invece nella gran parte Dei casi Si esaurisce un po' lì Ah c'è questa enorme Crisi internazionale Ma ci sarà sicuramente Un carosello Di Instagram Che in sei Immaginine Cinque slide Tinta pastello E a quel punto E a quel punto L'ho capita Quella roba lì La vivo un po' male Ne soffro un po' Però poi mi ascolto I miei pensieri Quando mi ascolto Dire cose tipo Questi giovani Che non capiscono nulla E adesso Mi rivedo quindi Nei personaggi Ci ho incontrato A mia volta All'inizio della mia carriera E penso Sono definitivamente Invecchiato Devo riuscire A contenere Questi pensieri E non esprimerli Pubblicamente Se no vengo cancellato Ma invece scusami Io voglio sapere La genesi Di quello che per me È un titolo Clickbait Cioè Qualsiasi cosa Spiegata bene Cioè io appena vedo Spiegato bene In un titolo Vado proprio dritta E voglio Voglio proprio vedere Se è spiegato bene Oppure Ah effettivamente Io non so niente Di questa cosa qui E non sapevo come risalire A queste informazioni È una genesi Che ha due ragioni La prima è che noi Soprattutto all'inizio Eravamo pochissimi Eravamo tipo in sei o in sette Quindi non avevamo La possibilità Di andare a cercare noi Le notizie Il massimo che potevamo fare Era fare un lavoro Di verifica Di aggregazione Dalla casa nostra Dalla redazione E provare ad aggiungere Il nostro valore Che era spiegare bene le cose Perché poi i giornali Sapete A volte danno per scontate Un sacco di cose diverse Danno per scontate Che tu abbia letto I giornali dei giorni precedenti Diciamo E non sempre è così E quindi Prendiamo una roba Te la spieghiamo dall'inizio E quello è il contributo Anche che rende diverso Il post magari Dagli altri giornali Un'altra cosa Che però ha influito È il fatto che appunto Dato che le persone Non è che oggi Vadano a comprare I quotidiani ogni giorno In edicola E i giornali Parlano un po' Una lingua Di plastica Una lingua Che non è la lingua Delle persone normali Non tutti i giornali Però no La bufera La bagarre Queste parole Che nessun essere umano Mai usato In quei contesti Se non dentro Una redazione Bomba d'acqua Per il meteo Che mi fa impazzire Ma è bomba d'acqua Oppure quando una cosa Non si capisce È giallo È giallo È giallo Tu torni in redazione O in ufficio a casa E dici Ma sai che ho questa penna L'ho persa È giallo È giallo Nessuno la dice mai Quella roba lì Sui giornali In me c'è sempre E allora provare A usare un linguaggio diverso Per spiegare bene le cose Che poi il linguaggio La nostra regola è Pensa che tu lo stia spiegando Non so A tua nonna O a tuo nipote O a tuo fratello Come lo spiegheresti a cena Quello è un po' Lo stile Ha funzionato Perché come raccontavi Tu stessa attrae le persone Che pensano di trovarsi davanti Un contenuto Che non li metterà in difficoltà Ma che gli faciliterà le cose Poi bisogna vedere Se noi siamo in grado Di mantenere questa promessa Certo Se non lo facciamo È effettivamente clickbait Se no Secondo me Se la promessa è mantenuta Cioè a me una volta È capitato di vedere Una cosa super clickbait Non era uno spiegone C'era questa foto Di questa bambina Che era davanti a Non so se era Un parco acquatico Comunque c'era uno squalo enorme Dietro un vetro E il titolo era Non crederai mai A cosa succede dopo E quindi io clicco Penso la bambina Sera sbranata Dallo squalo E invece tipo La bambina faceva così col dito E lo squalo seguiva Il dito della bambina Che grande delusione Cosa? Ha commosso il web Bellissimo No ma non crederai mai Io voglio sperare Che lo squalo sfondi La roba È certo È giallo È giallo Il clickbait deve mantenere La promessa Se no è proprio Un tradimento No se no è da Spaccare il computer È vero Sì È vero Quando avete fatto clickbait Sul post Di la verità Oddio Confessa Quando tu hai fatto O tu personalmente Hai fatto clickbait No Clickbait senza mantenere La promessa Credo mai Ci è capitato un'altra volta Sai che uno dei modi Con cui si fa più spesso Clickbait E questo dice molto Diciamo anche Della nostra cultura È alludere al fatto Che se tu clicchi Può darsi che vedi Qualche centimetro Di pelle nuda Di una donna No? Questa roba è un po' Soft porn Che circolano anche Che adesso arriva l'estate Le vip In costume In spiaggia E noi siamo sempre stati Lontanissimi Da questa cosa Attraendoci quindi Un pubblico Cacco evidentemente Quella roba lì Non interessava Una volta Decidiamo di fare Un articolo Un articolo giornalistico Molto serio Sulla storia Delle protesi al seno C'era un anniversario Della loro invenzione Come lo illustriamo Sto pezzo? Dobbiamo mettere Delle foto di tette Oddio I nostri valori Morali Però è un pezzo Che parla di tette Cioè non possiamo Decidiamo di mettere Una foto di Pamela Anderson Abbiamo scelto Delle tette iconiche Baywatch Esatto Pensando Vedrai adesso Che clic Che facciamo Finalmente anche noi Possiamo utilizzare Le armi degli altri giornali E invece Non hanno cliccato Non hanno cliccato Non ci sono Evoluti informati Molte li tieni Il lettore del boss Vede delle tette Dice io non clicco Per principio Che schifo Che schifo Bello però Guarda Allora Io devo dire Che nella serie Secondo me Un po' Di articoli Così Pruriginosi Dobbiamo metterli Cioè Allora Noi abbiamo bisogno Di un protagonista Noi abbiamo bisogno Di un protagonista Di questa serie Secondo me Se noi vogliamo Seguire L'onda The Office Dobbiamo avere Un capo Cioè un direttore Discutibile Diciamo Discutibile Che poi magari Si redime Diventa più Saggio Cosa di questo tipo Però dobbiamo avere Un direttore Un po' così Della vecchia guardia Che fa i conti Che prova a fare i conti Però col giornalismo E col mondo Che cambia Sì Con i giovani Ha un suo tiktok In cui è super cringe Esatto Che obbliga Tutti i suoi redattori A fare delle dirette Che loro vogliano No Partite dal vostro Vi impratichite Stai parlando Di un direttore Che abbiamo avuto Di un editore Di un editore Anzi che abbiamo avuto Potrebbe essere Potrebbe essere Potrebbe essere No Secondo me Se noi prendiamo Un direttore Sui 50 Ok Quindi uno che ha vissuto La vecchia guardia Ma non è abbastanza vecchio Da andare in pensione E dire Vabbè il mio l'ho fatto Si deve sucare Instagram Si deve sucare Instagram Niente da fare Certo Quindi di quell'età Che vive lo struggle Tra i suoi colleghi Magari anche le invidie Dei colleghi più anziani Che non hanno Non sono diventati direttori Insomma Certo Ma loro non sanno Che vita è costretto A fare lui Esatto Che appunto Deve farsi le dirette Su Instagram E ogni tanto Bullizza anche i giovani Raccontando dei vecchi tempi In cui appunto I viaggi stampa All'epoca io guadagnavo Non so 18 milioni di lire Esatto Questo è il tuo computer Sai quanti ne avevo io? Tipo quelle robe lì Che tristezza Povero pirla Che venite quel computer da casa Povero pirla Cioè in effetti Una scena molto bella Dentro Inventing Anna Che ha Diciamo come Cioè si parla ovviamente Di Anna Sorkin Sì anche E anche della giornalista Che ha scritto Tutto il reportage New York Magazine Se non sbaglio Lei si trova In una parte Della redazione Dove ci sono I giornalisti Quelli un po' Falliti Anziani Quelli che sono lì Da tanto tempo Che non scrivono Pezzi di successo Ovviamente Gente bravissima Gente bravissima Con un mestiere Incredibile Che le danno Una mano enorme Per fare questo articolo Che però tipo Sono mandati un po' Là a morire Come si fa con Quali sono gli animali Che quando devono morire Vanno via Tipo gli elefanti Anche i piccioni Vanno a morire Un pezzo sul post Questa cosa Dove muovi Quante cose Che hai imparato Tu lavorando al post Perché non sapendo Fare dei tiktok Questi premi pulitzer Devono stare Nella sala Caldaia Esatto Possiamo anche Ipotizzare Che ci sia Un angoletto Dove ci sono Questi giornalisti Che magari Anche proprio Per il passaggio Dal cartaceo Al web Passano da occuparsi Di Non lo so Di cronaca Nera Di cui erano specializzati A dover fare L'angolo delle ricette Sarebbe bello Anche se uno di loro Invece diventasse Mega pro Di tiktok Molto meglio Di tutti gli altri giovani Tipo una storia Di un Narzillo giornalista Che riesce A usare I social media Le nuove tecnologie Ho questo telefono Che fa le fotografie Non so se L'avete mai visto E sono soltanto Dei selfie Sul suo profilo Ovviamente Fate molto da vicino Come profilo Instagram Dell'avvocato Taormina Non so se l'avete mai visto Sono tutti selfie Incredibili Dal passo In macchina Si merita Molti più follower Di quelli che ha Per quel profilo E poi Ci sono anche Dei Chiamiamoli Giovani vecchi Cioè Giovani che vanno a lavorare Dentro le redazioni Che dovrebbero essere Quelli che Magari Ne sanno di internet E dicono Ah no Io voglio il cartaceo Ci sono due tipi Di giovani Cioè sia Il giovane vecchio O come piace dire a me Il pre vecchio Cioè E già No Il pre vecchio Che ha capito Che per fare carriera Deve accreditarsi Agli occhi Del grande capo E quindi cerca Di imitarlo A cominciare Dall'abbigliamento In tutti i modi E se il capo Fa una diretta sbagliata Per esempio Con il video Sotto sopra Per non far sentire Il capo a disagio Magari la fa anche lui Il giorno dopo E dice No ma guarda Ma anche a me capita È la piattaforma Che non ti spiegano Che devi tenerlo così Non vanno mai Queste cose moderne Queste diavolerie E poi c'è l'altro Tipo di giovane giornalista Che invece Quello è un po' prodigio Si sente Sa due tre cose Si sente Un figo della madonna E quindi arriva Ed è evidentemente Infastidito Dal fatto di dover Passare il tempo Spiegare le cose Ai colleghi Che non le sanno fare Se la tira anche un po' È comunque talentuoso Non so Io ho anche immaginato Un attore per questo tipo qua Bravissimo Perché sapete che c'è questa regola Nel cinema di Hollywood oggi Che non si può fare un film Senza Timothée Chalamet Certo È proprio proibito Hanno fatto una legge Che è un po' mio corrispettivo Lui Come Secondo me Timothée Chalamet Non ti spugniamo neanche Su questa cosa Guarda Andiamo oltre Sfigati Andiamo oltre Timothée Chalamet è perfetto Lui la sa tanto bene Se la crede anche parecchio Alla face giusta Sì Esatto Me lo immagino Che prende tipo le cose E inizia a correre dietro al direttore Che è tornato Perché non c'è magari spesso Perché è andato parato Per ficciare le sue idee E gli deve ficciare la sua storia Però scusami A questo punto la domanda è Chi è il Timothée Chalamet italiano? Oddio Nel giornalismo? In generale No 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 Oddio Se poi hai una risposta Su chi è nel giornalismo No non so Oddio Chi potrebbe L'enticchia di un medico No 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 Beh comunque Non fisicamente non si somigliano Però attore molto figo Che piace molto E un po' sulla crescita dell'onda Marinelli forse Eh sì Eh sì Ma lui Sì È il Giovane Giovane stagista Stagista Però che si vede che ha qualcosa Diciamo Sì Sì E lui è quello che a un certo punto fa il podcast E gli altri si ispirano Vogliamo dire che E nessuno ci crede E poi due anni dopo Anche uno Sono tutti lì a fare il loro podcast Con il loro cuff Stiamo dicendo che sta facendo il tuo ruolo Vabbè non mi dispiace È capitato È capitato così Alla fine ci saranno i titoli E nella real life ci sarai tu Le tue foto Certo La tua storia Quando accostano la foto del personaggio vero Esatto Quella parte lì Secondo me richiederà un po' di lavoro in post Però Senti invece il direttore chi è? Allora parte redazione Tutti uomini No Tutti uomini no È quella roba lì Se la facevano negli anni 90 Tutti uomini Ma no che negli anni 90 lo facciamo Allora dobbiamo farla nel passaggio Quindi no Il direttore è sicuramente uomo Il direttore è sicuramente uomo Purtroppo Uomo tra i 50 Ce ne sono mai sui 50 Early 50 Diventa direttore a 50 anni Ok Chi potrebbe essere? Qui ci vuole qualcuno Che abbia anche competenza di comico Secondo me Cioè che sia uno Che abbia più registri Che abbia più È un pannofino Un pannofino Sì Però forse è uno più Che sembra uscito da GQ Ci vuole un Quel tipo di direttore lì Quindi comunque Che mi va anche agli eventi Ma deve essere Può essere figo? Sì Ma per me sì Sì Cioè secondo me lui diventa direttore Anche perché è quello figo Raul Bova È un Raul Bova È un Raul Bova No Ci sta Sì sì Rassicurante poi Piace al grande pubblico Sì 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 Unisce le generazioni Bello Bellissimo Quante le vocali Che ci sono nel nome Raul 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 Ok Pove Che quindi si cimenta nel comico Vediamo Vediamo cosa viene fuori Però secondo me ci sta Sì ma Raul è bravo Poi secondo me proprio l'editore dice Qui ci vuole qualcuno Che ci mette la faccia Quindi è anche un po' in balia Di questo editore ingombrante Chi è l'editore ingombrante Che invece di anni Ne ha tipo 65 L'editore ingombrante L'editore ingombrante Magari è un'editrice Ah Ottimo Alla diavolo veste prada Un po' uno squalo Che si è dovuta far largo in un mondo di uomini Lunetta Savino Cattiva Bellissimo Molto bello Molto bello Che straccia le pagine Bellissimo Bellissimo Che lei Anzi È lei a portare avanti un po' La transizione Tra cartaceo E tecnologico Perché ha dei nipoti Che le dicono Zia Nonna Noi usiamo Instagram Perché non ci sei su Instagram E lei poi chiama il direttore E dice Ma mi hanno detto Che noi non ci siamo su Instagram Ma questa roba è così reale Che è un reality show Non è la Cioè non è una Cioè non è una La vita vera Un po' come The Office Una roba che è Una specie di docu Finta docu Sì 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 Stupendo Poi secondo me C'è qualcuno Anzi mi immagino Una donna Della redazione Che ha Anche lei Tanta esperienza Di redazione Che magari Non ha fatto La carriera Che meritava Perché magari C'è stata Una maternità Di mezzo Che l'ha bloccata E lasciamo stare Secondo me Ci vuole un personaggio Anche di quel tipo Magari sui 45 Che è anche un po' Magari la persona Che aiuta Il nostro Giovane giornalista Prodigio Una Cassia Smutia Una Cassia Smutia Una fighissima Una fighissima Stupendo Un cast della Madonna Magari La proposta Non granché Però è il cast No 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 Invece secondo me Noi possiamo puntare in alto Poi loro chiamano Facciamo in uno Di quei ruoli Dove lei si deve Imbruttire Però Le parti in cui Però Cioè No Armani Che non è accettato Che una giornalista Possere credibile No Giornaista Non possono essere fighi Quindi no Soprattutto se lei È tipo quella Che deve fare Non lo so Abbiamo messo Raul Bova E Marinelli Marinelli e Cassia Esatto Imbruttiamo anche loro E Lunetta Savino Comunque Che è una bellissima donna Imbruttiamo tutti Imbruttiamo tutti Ma sì ma comunque Quello fa il giornalismo Imbruttisce tutti Siamo d'accordo Scusami Non so Più andiamo avanti E più questa frase è vera Io credo di aver guadagnato Non so Quanta Cioè Grana della pelle Colorito Appena sono stata cacciata Dalla redazione Cioè proprio Ah Rinata Rinata Secondo me ci vuole Qualcuno Che Faccia giornalismo Ma è completamente Fuori dalle dinamiche Di redazione Cioè magari qualcuno Che fa giornalismo Per dire Su Twitch O su Youtube Oppure proprio una teen star Non so Una teen star E allora prendiamo Una del web Sofie Viscardi Non male Non male Nella sua prima interpretazione Esatto Nel trailer Per me spacca Non male Bello Sofie Viscardi Che lei fa giornalismo Esatto Alternativo Giornalismo Alternativo E porterà il nostro Redattore Dalla sua Sì E nascerà Molto bello E nascerà una bella storia Molto bello E poi nel frattempo Vediamo anche queste scene Di un'Italia Delle notizie Che si susseguono Come vengono trattate Da tutti questi diversi giornalisti I loro punti di vista Esatto Di lei e di lui Che lui lavora in un giornale Lei sul web Lei ha più libertà Di dire ciò che vuole Esatto Lui è Mentre invece lui È imbriato Dall'editore 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 Gli inserzionisti Esatto Cosa diranno di me Esatto Lui che decide A un certo punto Di fare un po' Prendersi delle libertà E subito Il direttore Lo riporta Nei ranghi Bellissimo Secondo me c'è Lo sviluppiamo così Anche a puntate Volendo No no Ma ci sono tante puntate Eh sì Scusate Partiamo con due stagioni Quindi Ordiniamo due stagioni Ordiniamo due stagioni Sì Anche perché Secondo me Dobbiamo proprio partire Cioè È una serie Inizio già col pitch Questa è una serie Tra l'altro Come si chiama questa serie Sul giornalismo italiano E sui cambiamenti Del giornalismo Disgrazie Debiti Debiti Miseria Banner Clickbait Clickbait potrebbe essere Un buon titolo Effettivamente Chiamiamola clickbait 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 È una serie Ambientata nel giornalismo italiano Che poi ovviamente Come è successo con Scam Come è successo con altre serie La si può vendere anche ad altri paesi Non è che in Finlandia o in Svezia Le cose siano Clickbait Svezia Clickbait Francia Esatto Abbiamo anche il nome internazionale Quindi Perfetto In cui raccontiamo Un momento particolare Del giornalismo italiano E del giornalismo in generale Cioè il passaggio Dalla vecchia guardia Del cartaceo Alla nuova guardia Del giornalismo online E web Con tutte le sue varianti Direi che questo Questo è l'elevator pitch Poi andiamo più Nello specifico E parliamo Di una redazione Diciamo Una redazione Di un giornale cartaceo Che ha anche Una redazione web Ovviamente Dove c'è una editrice Molto potente Che si rende conto Di dover Insomma Svecchiare un po' Questo cartaceo Perché glielo dicono i nipotini Perché glielo dicono i nipotini Non perché lei Cioè Lei si rende conto Dei conti Che non vanno Lei si rende conto Dei conti Che non vanno Io voglio doppiare i nipotini Che dicono Tu sei un nipotino Non avete abbastanza engagement Allora mi dicono A te non vai a lavorare Che c'hai 40 anni Dovete fare una newsletter Io faccio la parte Del nipote Che non lavora Non studia E si fa mantenere Dalla non editrice Ma secondo me A un certo punto Viene anche assunto Come consulente Esatto Ti dirò Succede anche Devo spiegare il SEO Esatto Comunque c'è questa redazione Di un giornale Con questa editrice Che vuole cambiare le cose Quindi assume Un direttore Che è uno splendido Cinquantenne Raoul Bova Interpretato da Raoul Bova Che Trovandosi forse un po' Magari lui viene da un altro tipo di giornalismo Magari lui viene da un mensile O da un settimanale Viene da un mondo Un po' più cool Ha lavorato all'estero anche Ha lavorato anche all'estero Lui arriva pensando Di trovare un contesto Magari tipo New York Magazine E invece E invece no E invece no E quindi si scontra con Sia questi cambiamenti A cui magari lui è ancora un po' resistente Perché viene da un altro tipo di giornalismo E questa vecchia guardia Questa vecchia guardia è rappresentata da alcuni giornalisti Un po' vicini alla pensione Che sott'anno lì attaccati alla carta E invece dei giovani redattori Come dire Capitanati Da un giornalista prodigio Interpretato da Marinelli E sexy Prodigio è sexy Indico per chi è Si sta ascoltando Sto indicando Francesco Costa Ovviamente Che è comunque lui Un po' alla fine Interpretato da Marinelli Che cercano di portare Insomma Dell'aria fresca Dentro questa redazione Con tutti Insomma I problemi Di fare giornalismo online Ma anche il fatto che loro magari Se la credono Di essere quelli che arrivano E fanno tutta la disruption Mentre invece Quello che sta nel sottoscalo Un po' anziano Due o tre cose da insegnare A questi qui ce l'avrebbe anche Esatto Un po' saggio C'è un Esatto Un giornalista saggio C'è anche un vecchio saggio Esatto Ma c'è anche una redattrice Che fa da ponte Diciamo tra una Un tipo di giornalismo E un altro Interpretata da Kasia Smutniak Che ha iniziato La sua carriera In un giornale cartaceo Ma Si è trovata Si è trovata Anche insomma A dover seguire La parte web E quindi Dà una mano A questi Giovani talenti Fuori c'è un mondo Alternative Che non avete mai sentito Nominare Tipo youtube Queste piattaforme Incredibili Twitch E in questo caso La giovane giornalista Alternativa È Sofia Viscardi Di cui spoiler Poi partirà Una storia d'amore Con Marinelli Perché comunque Ci vuole un po' Insomma Ma vediamo come va La prima stagione Cioè su Netflix La gente guarda Bridgerton Non è che possiamo Non dare un po' Un po' di 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 C'è anche chi fa Fast forward su Bridgerton Per guardare soltanto Le scene in cui sono nudi Ne conosco Ecco Sei tu Io Io Eh certo Mi sono fatto Questa Cosa hai fatto? No niente Si può dire niente Che si sente tutto Mamma mia Vabbè Questa è Clickbait È una serie Scritta Da me Da Filippo E da Francesco Costa Profuma già di successo Profuma già di successo Di Vendi Di Emmy Di noi che andiamo Sui red carpet Negli Stati Uniti Negli Stati Uniti Un luogo tanto caro Certo Al nostro Francesco Ma anche dei Davide Di Donatello Io non li butterei No 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 noi prendiamo tutto I telegatti Poi prendiamo tutto Anche dei premi così Regionali Non so Il premio di Salina Vabbè Voi lavorate per Netflix Immagino che abbiate Una corsia preferenziale Cioè si fa Guarda Nel nostro film è cambiata Noi se vediamo Qualcuno che fa una serie Sul giornalismo E noi non siamo dentro Andiamo negli uffici A Roma Facciamo un casino Facciamo un casino Vi mettiamo le blatte Urliamo Esatto Perché è nostra questa idea Questa è una firma digitale No Vocale Chiara Galeazzi Questa è la mia firma vocale Francesco Tu sei pronto A lasciare il giornalismo Per diventare sceneggiatore No io volevo soltanto Che mettesse il nome nei credits Devo anche sceneggiare la serie Una mano ce la devi dare Scusa Ma ti svegli al mattino Un'ora prima Una volta che ti sveglia alle 4 Cosa ti cambia Svegliarti alle 3 Va bene Facciamo una colla Allora però Ogni mattina Di allineamento Va bene Poi noi torniamo Calendarizzo io Mando il link io Ottimo Bene Grazie mille per essere Venuto qua Grazie a voi Ti aggiorniamo Fatemi sapere No infatti Mi libero Tu tieniti libero Se ti arrivano lavori Non accettarli più Va bene No basta Ciao Ciao